Buongiorno, sono il dottor Tammaro Rosario, lavoro presso unità operativa di urologia di Empoli. Sono molto grato a dottor Antonini per questo corso perché mi ha aperto una prospettiva nuova, visto che ho già un'esperienza nell'accesso penoscrotale e questo veramente mi ha fatto capire che con questa nuova tecnica si possono abbreviare i tempi e soprattutto utilizzare anche meno materiale.